Svrong, 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 i tasennedi, i cagliari, i cagliari, svrong, svrong, i tasennedi, svrong, i tasennedi, svrong, i tasennedi, svrong, la volevi rubare con un rigorino, è stato con un rigorino, non ho visto la partita, ma ho letto qua, e poi, svrong, 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 eh? La volevi ciulare con un rigorino, ma non ti vergogni con il cagliari in casa, scappate, si è fermata, l'armata bianconera si è fermata, la volevi rubare, vero? Era tutta in salita la partita, e poi cos'è successo? Cos'è successo? Scarso, cos'è successo? Eh, dov'è Lino? Lino, cos'è successo alla tua Juventus, Lino? Che cos'è successo alla tua Juventus, Lino? Svrong, 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 svrong.